Benvenuti all'ascolto di Radio Speranza, la radio della diocesi Pescara Penne, MHz 87,6. Un caro saluto da Licio Di Biase. Oggi per il nostro programma Gli incontri di Licio Libre dintorni, con la regia di Davide Reamici, si incontriamo Alessandro Giovannucci. È un libro un po' particolare, un libro che verrà presentato domenica 13 novembre alle ore 18 al Cerulli, nell'ambito del FLA, del Festival della Letteratura. Ecco, con Alessandro Giovannucci, che è il curatore di questo libro, Tradizione musicale e culturale in Abruzzo, di cui ho curato l'introduzione, oggi cerchiamo appunto di approfondire temi molto interessanti. Noi parliamo della tradizione musicale e culturale in Abruzzo, quindi di un mondo che appartiene alla regione, ma che molte volte è distante dalla vita della nostra cultura. Allora, Alessandro, come nasce questo libro? Grazie Licio, grazie agli ascoltatori e ascoltatrici. Il libro nasce dal cercare di fare luce, diciamo, sulla vita musicale, ma anche culturale, abruzzese, attraversando le epoche e anche gli approcci, perché chi ha contribuito al volume si tratta insomma di esperti che vengono da campi diversi, ognuno con la propria retroterra culturale, con le proprie metodologie, quindi è un volume volutamente aperto e diciamo un po' poroso, in cui i linguaggi si parlano, si confondono in maniera positiva e collaborano. Appunto, esperti e esperte da diversi campi hanno collaborato perché ci piaceva dare un'idea anche di polifonia, che non è solo quella musicale, ma anche quella autoriale e quella, diciamo, dei punti di vista. Bene, guarda, io ho curato l'introduzione perché questo volume nasce anche intorno ad un confronto di carattere musicale che si sta, che è da alcuni anni al centro dell'attenzione di alcuni operatori, ed è la compagnia di canto popolare Abruzzo Forte Gentile con il maestro Nicola Di Nardo. Ecco, intorno a questa compagnia si è sviluppata appunto una riflessione, dicevo, sulla musica, sulla danza, molto importante, sui canti, per esempio sulla rivalutazione anche del Dubot. E io apro la mia introduzione con una frase particolare che mi ha sempre così, mi ha colpito studiando Gabriele D'Annunzio. Il 18 luglio del 1881 scriveva Gabriele D'Annunzio in una lettera inviata a Gisela Zucconi Io studio le canzoni popolari abruzzesi. Che sublimità di ispirazione, Elda! Che melodie profonde e affascinanti! Non sembrano prodotti di un uomo, ma le voci della stessa natura. Nessuna parte d'Italia ha canzoni così belle e così splendidamente musicali. Te ne manderò qualcuna. Allora. Sì, questa è una parte che anche a me ha colpito molto dell'introduzione, della quale ovviamente ti ringrazio. E unitamente ha sempre D'Annunzio, quando più avanti illustrini il fatto che metta in luce che in Abruzzo si canti di più in gruppo rispetto ad altre culture musicali del Mezzogiorno, anche più accreditate, quella napoletana e quella siciliana. E questo è un aspetto importante della nostra tradizione musicale. Sì, importante anche al puntista sociale, perché appunto l'idea che è una... Ci sono tanti studi interessanti tra le comunità e quanto si canta in solo, quanto si canta in polifonia. Quindi mettere in luce questo aspetto secondo me è stato molto interessante. Un'altra frase e poi passiamo al tuo lavoro. C'è un altro articolo di Altobelli, noto avvocato della fine dell'Ottocento di Pescara, che parla di una festa che si tenne nella casa di Vicentino Michetti e di Francesco Michetti, in cui a un certo punto si comincia a suonare e a ballare la saltarella. Per esempio, la saltarella è anche un momento importante della rilettura che facciamo della musica popolare, in quanto è sicuramente un ballo, è una musica, che va rivalutato. Che dici? Sì, quel momento descritto nell'introduzione anche, secondo me, è molto importante, perché mostra diversi aspetti, mostra punti di incontro di diverse linee direttrici, diciamo. Innanzitutto quella tra il colto e il popolare, perché il ballo anche nell'immaginario, il ballo, il ballo del dubbotto, è il ballo popolare per eccellenza. Ma è anche vero che, tu citavi appunto Altobelli, ma anche altri intellettuali, artisti, anche il Cenacolo Michettiano, di fatto si è occupato, poi in maniera colta, diciamo, di argomenti popolari, creando questo ponte. Poi la danza come ponte anche tra il corpo e lo spirito, la musica che parla sia quello che abbiamo dentro, sia anche esteriormente, perché poi c'è l'altro punto di unione, che è quello tra il gesto e il suono, che nella danza sono fondamentali, ma anche nell'esecuzione strumentale, nella prassi strumentale, si possono produrre certi suoni, solo se ci si comporta fisicamente facendo certi gesti e non certi altri. Quindi mi sembrava un aneddoto che racconta molto bene come si incontrano tante forze diverse. Allora, veniamo adesso a questo libro che tu hai curato, perché sei riuscito ad amalgamare diverse appunto espressioni, diversi saggi. C'è questa prima parte che può essere proprio la storia della musica abruzzese, musica degli angeli, i madrigali spirituali del Cinquecento, insomma. Questa parte sì, diciamo che idealmente il volume si compone di otto saggi, idealmente, anche se è difficile mettere appunto steccati precisi, ma idealmente ogni coppia di saggi, i saggi possono essere pensati in quattro coppie che sviscerano quattro argomenti diversi, ma ovviamente interrelati. Quello che riguarda questa parte appunto la storia della musica, l'icronografia, l'analisi delle forme musicali, presenta due saggi. Il primo è quello sui madrigali spirituali di Cesare Tudino Datri, di Marco dell'Asciuca, che presenta un caso veramente interessante, perché dell'Asciuca stesso ha ritrovato questo libro di madrigali del quale si era perso traccia, e oltre quindi a questo ritrovamento che già di per sé sarebbe importante, poi correda il tutto da un'analisi molto puntuale, e presenta questi madrigali che vengono definiti spirituali, e che si imporranno poi alla fine dopo il Concilio di Trento come modelli di musica ricreativo e spirituale. allo stesso tempo. E inoltre fa vedere come, essendo dedicati al Duca Datri, Giovanni Girolamo d'Acquaviva, mostrano comunque che i manufatti musicali, in questo caso questi libri madrigali, venivano fuori da un humus, nei quali c'erano corti, corti di nobili, nobili interessati all'arte, che ospitavano dotti musicisti. Insomma questa cosa è importantissima, e la vediamo, e vado a chiudere su questa sezione, anche con la musica degli angeli di Luca Dragani, che mostra, attraverso uno studio di testimonianze, diciamo artistiche musicali, dell'iconografia, in particolare della chiesa Santa Maria di Piano di Loretta Prutino, come l'iconografia possa essere uno strumento, quindi lo studio delle immagini, delle pitture, delle riproduzioni, possa essere importante per conoscere gli strumenti musicali, storici, e la musica antica. Questi affreschi del XIV-XV secolo vengono analizzati e mostrano anche questi che gli artisti, le manovalanze, le maestranze erano di qualità, ma che lavoravano in un clima culturale importante. Certo, questa è la dimostrazione come la nostra regione, molte volte trascurata poi, nel riuscire a leggere il territorio, chiaramente emergono non solo elementi del patrimonio culturale di incredibile valore, noi eseggiamo la nostra provincia, voglio fermare la nostra provincia, possiamo incontrare testimonianze medievali di incredibile importanza, San Clemente a Casauro, Santa Maria Rabona, a Penne, ricchissima città, la collegiata di San Michele a Città Sant'Angelo. Ecco, a fianco a questo patrimonio di carattere culturale, materiale, c'è poi questa parte più immateriale che è la musica, che in questo caso è una musica addirittura che ha le radici nel Cinquecento. Poi veniamo alla seconda parte. La seconda parte è quella che tratta un po' del rapporto tra antico e moderno, diciamo, cosa c'era e come si è trasformato. I misaggi che idealmente afferiscono a questa sezione sono quelli di Emiliano Giannetti e un gruppo informale del maestro Di Nardo, quindi Anconitano, Cascilli, Cilli Di Nardo, La Torre, Paolini, Pietrangeli. Sono tutti quelli della compagnia di canto popolare di cui parlavamo prima. La cosa interessante è che sottende il saggio di Giannetti che è sui solfeggi di Francesco Paolo Tosti. Fra tradizione e innovazione presentano qualcosa che potrebbe sembrare un po' tecnico, un po' freddo, come il solfeggio, addirittura i manuali di solfeggio, ma mostrano, analizzati in maniera efficace da Giannetti, il valore didattico del solfeggio e quindi anche la vita di un giovanissimo Francesco Paolo Tosti che debutta come cantante e musicista maestro di canto raggiungendo una fama internazionale che ancora oggi gli viene riconosciuta e l'analisi di questa raccolta di solfeggi che è una raccolta poco nota però appunto mostra come l'educazione alla voce, l'orecchio, il gusto artistico facevano già parte del patrimonio e venivano però sviluppati con gli strumenti ad hoc perché non basta che ci sia una cultura se questa non viene tenuta viva e un po' lo stesso argomento viene trattato anche nell'altro saggio La consegna del sublime Danunziano dove si parla un po' prima, questo è un saggio abbastanza composto e tocca diversi punti li riassumo in breve il valore e l'uso della melodia nella musica popolare valore innegabile diciamo in tante tradizioni e in questo saggio si mostra diciamo l'approccio abruzzese a questo valore, a questo primato melodico diciamo poi c'è un'analisi rapida ma efficace di cosa è musica popolare e cosa no l'analisi è sottile non ci si può dilungare un argomento ovviamente virtualmente infinito ma poi si passa da lì all'oralità e alla scrittura il rapporto quanto si scrive quanto è a mente c'è il luogo comune per il quale la musica popolare è tutta sempre a mente la musica colta è sempre tutta scritta ovviamente queste sono definizioni di comodo e anche questo ridefinisce quindi i ruoli del compositore, dell'interprete diciamo spariglia un po' le carte e poi, e si va in una parte interessante del saggio c'è un'attenta riflessione sulla registrazione della musica il passaggio dall'analogico al digitale come si preserva un patrimonio che è principalmente orale che è principalmente fatto per la performance non per la registrazione quando lo si registra e nel fare questo appunto poi ci sono analisi delle maggiorate della settembrata abruzzese di alcuni eventi insomma che conosci meglio di me e l'attenzione anche a appunto la relazione tra il suono e il gesto come recuperare diciamo come condividere e raccontare la musica popolare nel caso specifico del lavoro della compagnia informale di canto popolare bene ci fermiamo qui per la prima parte di questa interessantissima riflessione sul libro tradizione musicale e culturale in Abruzzo diamo la parola al nostro regista musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, dopo questa pausa musicale dobbiamo al nostro regista Davide Diamicis la capacità di individuare sempre le giuste sonorità per accompagnare la presentazione dei nostri volumi. Grazie a tutti. 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 che le culture vivono di questo humus che è collettivo, che è di tutti e che non è di nessuno, che è la tradizione, ma è anche vero che ogni tanto, come nel coro greco, ci sono una o due persone che escono dal coro, si trascinano, traghettano le direzioni di qua o di là, danno il loro imprinting, diciamo, il loro imprimatur all'andatura, all'andamento culturale e quindi è sia collettivo che individuale, come in questo caso. Bene, prima ho letto una frase di D'Annunzio che ho riportato nella mia introduzione, poi questa considerazione sul ballo, sulla saltarella nella casa di Francesco Michetti. Adesso voglio leggere un'altra piccola frase. E così anche Primo Levi ne parla nel libro, il cui titolo è divenuto un tratto identitario della nostra regione, Quell'Abruzzo forte e gentile che ormai ci appartiene, scrive Levi Si sentono eccheggiare serenamente, meste per l'aere, qualunque sia la parte d'Abruzzo percorsa, poiché il fondo dell'indole è la stessa in tutta la regione, con diversa espressione, questa è importante, questa riflessione è importante, A seconda che sia atteggiata la natura del suolo, lunga e uniforme sul monte, piano al piano, rotta e mossa sul mare, di una serenità diversa da quella delle canzoni napoletane, di una mestizia diversa da quella delle canzoni siciliane. E allora, prima di passare all'altro argomento con cui concludiamo, voglio una riflessione su questa considerazione. Sì, questa considerazione è veramente interessante, mi ha anche un po' stupito in maniera positiva quando l'ho letta, sia perché c'è questa riflessione sulle differenze tra le zone della regione, che poi trovano una sintesi, diciamo, però vivono di anime diverse. È un po' come il dialetto della nostra regione, sono dialetti per nulla contaminate, che sono quelle delle zone non toccate dalle strade di comunicazione, e invece le altre realtà che subiscono le contaminazioni. E così è questa, a mio avviso, è questa musica. Comunque, scusami se ti ho interrotto. È vero, no, ti ringrazio, è un'interessante nota. E oltre a questo c'è anche appunto il fatto della comparazione, diciamo prima, con altre zone d'Italia che hanno qualcosa in comune culturalmente, ma hanno anche un grosso tratto distintivo. Perfetto. Allora, adesso, prima di chiudere, c'è quest'ultima considerazione, questi altri due saggi che appartengono a una tematica diversa da quella toccata fino adesso. Sì, mi piaceva aggiungere questa sezione tematica, che poi non ho neanche imposto particolarmente agli autori. Diciamo, secondo me è uscita fuori in maniera abbastanza organica, raccogliendo il materiale. Questo quarto punto, diciamo, è quello che gira intorno all'idea del contemporaneo, quindi applicazioni moderne, oppure studi sul paesaggio sonoro, insomma, anche come viene vissuta in maniera sociale, sul tessuto sociale tutti i giorni la musica, perché poi se si parla di tradizioni si parla anche di una cosa che si rinnova, altrimenti si parla di musealizzazione, che non è sempre la migliore strada, diciamo. Una sicuramente importante, ma non l'unica. Quindi il punto, un caso interessante, è quello di Domenico di Virgilio, che nel volume scrive il saggio Un breve viaggio tra suoni reali o immaginati dell'Abruzzo, che mette in risalto un punto molto interessante, cioè che ogni musica è presente sempre, anche le musiche antiche, le musiche tradizioni, sono presenti nel momento in cui risuonano, vengono eseguite, vengono vissute, vengono ascoltate o analizzate. La musica popolare continua a vivere solo in quanto oggetto capace di trasformarsi, che accoglie gli influssi e le contaminazioni e, diciamo, continua a rappresentare tratti peculiari anche delle diverse comunità. Di Virgilio descrive un po' l'ambiente sonoro nel quale impariamo a crescere, ad ascoltare, ad apprendere e anche a riprodurre i suoni e poi ricorda, appunto, sempre tra passato e presente, ricorda anche il valore del Cenacolo Michettiano, che abbiamo già detto, come rifondazione del tessuto culturale regionale. Sicuramente luogo di grande incontro, luogo di crescita culturale di tutti i partecipanti. Bene, allora, questi sono gli argomenti in questo volume Tradizione musicale e culturale in Abruzzo, che verrà presentato domenica 13 novembre alle ore 18 al Cerulli e, a seguire, alla presentazione del libro, ci sarà il concerto della compagnia di canto popolare Abruzzo Forte e Gentile. E io, infatti, voglio concludere questa nostra riflessione proprio con alcune parole di Primo Ve e Primo Levi da Abruzzo Forte e Gentile. Però poi farei un'altra considerazione finale. Va nella nostra lingua tutta in se stessa semplicità ed efficacia una parola consacrata dalla intenzione degli onesti a designare molte cose buone, molte cose necessarie. È la parola forza. E però si è detto e si dice il forte Abruzzo. Va nella nostra lingua tutta in se stessa comprensiva eleganza una parola che vale a comprendere, definendole tutte le bellezze, tutte le nobiltà. È la parola gentilezza. E però, dopo aver visto e conosciuto l'Abruzzo, dico io, Abruzzo Forte e Gentile, di Primo Levi. Parole importanti per la nostra regione, a cui noi facciamo riferimento con questo volume sulla tradizione musicale e culturale. Questo volume esce, tra l'altro, in un anno particolare. Perché quest'anno ricorre il centenario della pubblicazione di Vola, 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 che è la canzone per eccellenza della tradizione popolare abruzzese. Sì, una canzone che ancora di più, secondo me, dimostra un po' gli argomenti di cui abbiamo parlato oggi. Perché nasce proprio come unione tra colte popolare. Come testo scritto, diciamo, da persone con una formazione culturale, ma di ispirazione, con una radice fortemente popolare. E benché si possa pensare, appunto, a un'operazione magari un po' esterna, poi la cosa viene smentita nel momento in cui una canzone diventa popolare quando ci se ne approvia, quando diventa un simbolo di qualcosa, accomuna le persone. Quindi, a prescindere dalla genesi, che può essere mista, come in questo caso, diventa veramente popolare nella misura in cui... Dopo cento anni, tutti i gruppi folcloristici non possono fare a meno di non cantare Vola, Vola, Vola. Tant'è che addirittura, dopo la pubblicazione nel 1922, la canzone vinse un concorso di musica tradizionale a Teramo e fu già, come dire, insomma, l'avvio di questo grande successo e che poi oggi designa questa canzone come il riferimento della nostra tradizione popolare abruzzese. Ecco, allora, io ringrazio Alessandro Giovannucci per aver curato questo libro importante Tradizione musicale e culturale in Abruzzo, un momento di riflessione a più voci sulla tradizione musicale della nostra regione che deve essere sempre posta all'attenzione per chi appartiene al nostro mondo. Quando sento suonare i dubbott, quando sento ballare la saltarelle e cantare la saltarelle, io penso che in quel momento viene fuori la vera anima della nostra regione. Allora, caro Alessandro, grazie per questo lavoro che hai fatto nell'interesse della cultura della nostra regione. Grazie a voi per l'invito. Grazie a voi per l'invito.